Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo oggi con la visita del principe Alberto II di Monaco in terra retina, visita che durerà due giorni e che è iniziata dal monte sacro della Verra. È durata circa un'ora la visita del principe Alberto II di Monaco qui al santuario della Verna, una visita strettamente privata che ha ripercorso i luoghi che nel 1968 visitò proprio sua madre, la principessa Grace. Sì, sì, un'emozione grande perché siamo a ridosso delle stimmate, quindi c'è già l'emozione per questo, però come vengono tanti pellegrini, ogni pellegrino in qualche modo è un figlio del gran re, direbbe San Francesco, e così siamo anche lieti di accogliere sua altezza serenissima. Credo che oggi sia un giorno storico come è l'anno storico che siamo all'ottocentenario delle stimmate, come il 17 ci sarà questa firma dove il comune di Chiusi-Laverna con il comune di Assisi, i due sindaci firmeranno il patto di amicizia tra i due comuni. Il principe ha visitato la cappella delle stimmate, quest'anno ricorrono gli 800 anni da quando San Francesco le ricevette nel Monte Sacro e il refettorio dove ha potuto vedere la foto della madre, la principessa Grace, che nel 1968 visitò il santuario assieme alla figlia Carolina. Sì, è molto emozionante per me vedere questo luogo assolutamente straordinario e di vedere in quest'anno per questo anniversario, quest'anno anniversario dell'800 anni e di vedere le vere tracce della visita della mia mamma e della mia sorella. La visita è stata 56 anni fa, ma veramente una visita molto breve ma molto significativa e molto emozionante per me. La visita in terra retina proseguirà quando il sovrano domani visiterà il borgo di Rondine, cittadella della pace, per incontrare i giovani della World House, futuri leader di pace. Con il Principato di Monaco abbiamo un rapporto ormai da alcuni anni perché loro fanno tante azioni di cooperazione, di sostegno a progetti di pace e dell'ambiente per cui il Principe è anche un campione in questo senso di impegno. Poi questo fatto del 1968 della principessa Grace Kelly che venne alla Verna e che io incontrai e quindi io l'ho fatto presente nei rapporti e questa cosa ha sicuramente incuriosito tantissimo. E' stato un elemento fortissimo in più perché questa visita a Rondine partisse dalla Verna e quindi direi che è l'ideale perché la Verna è una radice di Rondine. Noi siamo qui perché nutriamo da decenni ormai l'esperienza di Rondine e del messaggio di pace che qui nasce. E proprio sui venti di guerra che ancora soffiano anche nel cuore dell'Europa il Principe ha risposto così. Dobbiamo cercare di mantenere la nostra mente aperta, ciascuno rimane nelle proprie posizioni senza voler ascoltare quelle degli altri. Dobbiamo invece costruire nuovamente la capacità di aprire la nostra mente. San Francesco sia da esempio. E adesso invece torniamo a parlare della vicenda della signora trovata morta in casa, la donna di 92 anni, morta ormai da mesi. Nei giorni scorsi avevamo sentito il vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti esprimersi sul fatto che se nessuno si dovesse fare avanti ovviamente per i funerali il comune sarebbe stato pronto ad affrontare insomma questo impegno a fronte ovviamente di una richiesta formale. Oggi si fa avanti anche un avvocato a retino. Da sola, poverina e morta, con un lenzuolo sopra, con un gatto vicino ovviamente anche lui morto, distenti e di inedia. Una cosa così mi ha colpito e per questo motivo, visto che non pare che ci sia nessuno che voglia pagare il funerale, mi sono reso disponibile a pagarlo io. Il lulosa della procura è arrivato ormai otto giorni fa, ad oggi però nessuno ha reclamato la salma. A farsi avanti così adesso è un avvocato a retino, Domenico Nucci. La vicenda è quella relativa al caso della 92enne Carla Maria Bazzani ritrovata senza vita in un appartamento di Via Montanara in avanzato stato di decomposizione lo scorso 31 agosto. In questo caso ti viene spontaneo fare qualcosa, dire ma non è possibile che accadano questo. Visto che accadono anche queste cose, diamo una degna sepoltura a questa signora che se lo merita. Se poi qualcuno mi vuole aiutare faccia lui, ma se non mi aiutano lo faccio da me. Anche il comune di Arezzo si era detto pronto a farsi carico del funerale se parenti non lo faranno. Quello che però non è possibile per un ente terzo, in questo caso il comune, questo o un altro, decidere quando farà l'esequie di una persona che non ha rapporti né giuridici né familiari con chi è deceduto. Quindi è necessario che arrivi una indicazione per cui si dà mandato all'amministrazione se vuole di procedere. L'amministrazione vuole, ma aspetto il mandato. Intanto vanno avanti anche le indagini. Le prime risultanze dell'autopsia hanno escluso la morte violenta. Il corpo senza vita della donna era all'interno dell'appartamento da almeno 4 mesi, se non addirittura 6. La figlia della 92enne, rintracciata dalla polizia a Rimini solo alcuni giorni dopo il ritrovamento del cadavere, adesso è indagata per abbandono di persone incapaci e truffa aggravata ai danni dell'Inps. 46enne denunciato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sono stati i carabinieri di Castiglion Fiorentino a scoprire una vera e propria piantagione in un'area dotata anche di impianto di irrigazione a goccia e collegata ad una cisterna da mille litri. Nove le piante di cannabis, alte circa due metri e mezzo scoperte e ovviamente sequestrate dai carabinieri. Hanno sequestrato anche tutto il materiale per il confezionamento delle dosi, un blister con vari semi. Inoltre nelle disponibilità del 46enne c'erano anche 129 munizioni da caccia di vario calibro, tra le quali 19 a palla che il 46enne deteneva senza titolo autorizzativo. Sono ormai state cristallizzate le denunce, quindi formalizzate insomma le denunce nei confronti di coloro che si sono resi responsabili degli scontri durante il corteo dell'ultima giostra del Saracino. Sono 11 le denunce scattate a seguito degli scontri che si erano verificati durante il corteo storico della giostra del Saracino di domenica 1 settembre. Il reato ipotizzato al termine delle indagini portato avanti dalla Digos della Questura di Arezzo sarebbe quello di Rissaggravata. Gli investigatori hanno incrociato gli elementi provenienti dai video dell'episodio violento in via Guido Monaco con testimonianze e referti medici. Le carte, adesso terminato il lavoro degli inquirenti, passano alla procura e parallelamente è in corso anche l'attività della magistratura della giostra. A seguito dei disordini che si erano verificati, il prefetto di Arezzo, Maddalena De Luca, aveva anche convocato un comitato speciale sull'ordine e la sicurezza pubblica per analizzare gli incidenti prima e durante la sfida. Gli episodi che si sono verificati, soprattutto durante il corteo storico, sono assolutamente esecrabili per la modalità con cui si sono verificati in un momento in cui quello del corteo storico, che è il momento che coinvolge tutta la cittadinanza, quindi famiglia e bambini, mettere a rischio un momento che dovrebbe essere un momento assolutamente festoso, un momento che qualifica anche la nostra città perché è una manifestazione storica di grandissima importanza con episodi che nulla hanno a che vedere con la giostra, va chiaramente evitato. Naturalmente saranno presi dei provvedimenti che, così come in tante occasioni ho avuto modo di sottolineare la grande collaborazione che c'è stata da parte dei quartieri, da parte dei quartieristi, da parte dei rettori, saranno adottate delle decisioni e delle determinazioni che non faranno sconti. Dopo gli ultimi episodi legati all'area ex lebole, ovvero una donna che era rimasta ustionata e un incendio di sterpaglia, eravamo tornati appunto a parlare di questa area e il sindaco di Arezzo aveva anche fatto delle richieste di sopralluogo urgente. Ebbene, dopo questi avvenimenti adesso c'è una vera e propria ordinanza dirigenziale. È arrivata l'ordinanza per l'area ex lebole di proprietà dell'imprenditore Marco Carrara, era stata oggetto, dopo vari episodi di cronaca e degrado, di una richiesta urgente di sopralluogo da parte del sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli. I sopralluoghi erano stati chiesti alla ASA, all'ufficio edilizia del comune di Arezzo e alla Polizia Municipale. Dalle risultanze di questi sopralluoghi adesso ne è scaturita una vera e propria ordinanza dirigenziale. L'area deve essere riportata ad una condizione di decoro, igiene e sicurezza entro i prossimi 60 giorni. Si va dalla rimozione della vegetazione infestante e secca, facile e innesco per incendi come effettivamente è capitato, ai depositi di rifiuti sparsi, composti da legno e cartongesso che devono anch'essi essere rimossi. La recinzione esterna, come spesso hanno testimoniato le nostre immagini, aveva dei varchi aperti e questi sono stati già chiusi. Gli immobili sono stati però giudicati in parte ammalorati. La proprietà è stata così avvisata di ciò che era in violazione del regolamento urbano e adesso avrà 60 giorni di tempo per tutti gli adeguamenti richiesti. Al via lunedì prossimo due importanti cantieri. Il primo riguarda l'ospedale di Arezzo, ovvero lavori di manutenzione straordinaria all'eli superficie che si trova proprio presso l'ospedale San Donato di Arezzo. L'intervento interesserà sia il manto di copertura della piazzola che l'impianto elettrico. I lavori avranno una durata di 30 giorni per l'atterraggio e il decollo dei mezzi di soccorso. Il Pegaso della regione toscana verrà utilizzato alla piazzola del nucleo volo dei vigili del fuoco di Arezzo in località Molimbianco. Grazie ad un accordo tra proprio la ASL Toscana Sud-Est, la Prefettura, la Direzione regionale Toscana Vigili del Fuoco e il Comando Provinciale. E sempre lunedì partiranno i lavori per la nuova rotatoria di Vicio Maggio, un'opera pubblica strategica attesa dalla popolazione che migliorerà non poco la viabilità proprio di questa frazione dove insiste un colosso dell'imprenditoria aretina, ovvero la CEIA. Sarà proprio l'azienda a farsi carico dei lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Sono molteplici i benefici, dice l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Civitella in Valdichiana, Ivano Capacci. È previsto infatti l'allargamento e l'asfaltatura di via dell'Oppiarello, così come la riduzione della velocità di transito sulla provinciale 21 di Pescaiola. E il prossimo 16 di settembre partirà, come sappiamo, un altro anno scolastico per tanti studenti. Intanto sul fronte dei nidi torna il progetto Nidi Gratis. La regione toscana riapre dal 14 al 28 ottobre 2024 il bando per i nidi gratis. Potranno presentare domanda alle famiglie con ISE fino a 35.000 euro che non hanno ancora compilato il modulo o che hanno commesso degli errori nella presentazione dei documenti. Ad annunciarlo il presidente della regione toscana Eugenio Gianni e l'assessore all'educazione e istruzione Alessandra Nardini alla vigilia dell'avvio del nuovo anno scolastico. Le famiglie potranno presentare domanda dal 14 al 28 ottobre prossimi. La platea delle beneficiari e dei beneficiari di questo contributo che permette di azzerare le rette dei nidi e che quest'anno è superiore rispetto a quella raggiunta lo scorso anno con il primo bando di nidi gratis potrà dunque ampliarsi ulteriormente. In questo modo, aggiungono, vogliamo diffondere ancora di più una misura della grande valenza educativa che si basa su un principio. Il nido deve essere un diritto garantito a tutte le bambine e a tutti i bambini. indipendentemente dalle condizioni socio-economiche della famiglia di provenienza. Sarà l'onorevole Giovanni Donzelli, coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia, a ricordare nella Sala dei Grandi della provincia di Arezzo Felice Maurizio Dettore, scomparso recentemente. L'iniziativa è stata promossa e voluta da Alessandro Polcri, presidente della provincia di Arezzo, e da Francesco Macri, presidente di Estra. Dettore, politico e professore ha servito in maniera impagabile le istituzioni anche nel suo ultimo incarico di garante nazionale delle persone private della libertà personale, ruolo che ha messo in evidenza il suo profondo lato umano. L'iniziativa è in calendario per il prossimo 21 di settembre alle 10.30 all'interno del palazzo della provincia di Arezzo. Si è tenuto invece all'interno del Teatro Petrarca, per ragioni meteo, l'appuntamento di alti scaffali che vedeva arrivare ad Arezzo l'analista geopolitico Dario Fabri. Di solito se ne parla quando ci sono gli eventi più tragici, dalle guerre alle catastrofi, ma il giorno per giorno, che poi dovrebbe essere l'approfondimento necessario, non c'è quasi mai, almeno c'è un'occasione come questa e ne siamo contenti. Dario Fabri tra i protagonisti della seconda edizione del festival dedicato alla politica e alla contemporaneità, alti scaffali. Analista geopolitico e direttore della rivista mensile Domino, periodico che si occupa del mondo che cambia, strumento di geopolitica pensato per trascendere la cronaca, sondare le profonde cause dei fatti e scorgere il futuro. Al Teatro Petrarca ha incontrato il pubblico nel suo appuntamento Il mondo che cambia, come leggere gli eventi con gli strumenti della geopolitica umana, ponendo nuovamente i popoli al centro della nostra indagine. Tra i suoi titoli, appunto, geopolitica umana e atlante storico. Più di qualche scuola mi ha invitato a parlarne, a discuterne con gli studenti, non sarebbe male. Io credo che il nostro sistema di istruzione abbia necessità di modificare l'approccio occidentalistico, lideristico, giuridico o economico, per rimettere al centro lo studio antropologico dei popoli, che poi ciò che veramente muove il mondo, ne parleremo anche stasera, insomma, i sentimenti, le schifezze, le idiosincrasie, le nobiltà dei popoli e la loro storia, anzi le storie dette al plurale, sono ciò che muove il mondo, molto più di tutto il resto. Domani, domenica 15 settembre, conosceremo il vincitore degli otto racconti autobiografici finalisti per la quarantesima edizione del premio Pieve. Gli otto finalisti raccontano storie di guerra, di lavoro, di violenza e di sopraffazione sulle donne attraverso tre diari, tre memorie, due autobiografie, tra i quali sarà nominato appunto il vincitore. Domani ci sarà anche la consegna dei premi speciali, premio per il miglior manoscritto originale attribuito alla famiglia Sancer per l'epistolario Il Carteggio Salvato, premio speciale a Giuseppe Bartolomei attribuito invece a Maria Camerini Scola per Alma, sei ricca in amor, premio Città del Diario al regista Giorgio Diritti. È stata intitolata al professore Giuseppe Pasquini la palestra del centro sportivo Vigili del Fuoco di Arezzo al professore è stato dedicato anche un busto marmoreo presenti alla cerimonia, la moglie Marga che ha scoperto il busto, il comandante di Arezzo Roberto Bonfiglio, il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e le massime cariche delle Fiamme Rosse della Federazione Ginnastica Italiana. I giovani atleti poi della sezione agonistica di ginnastica artistica del gruppo sportivo Italo Gasbarri si sono esibiti in una dimostrazione tecnica. Ed infine parliamo dell'Arezzo che ha tirato un sospiro di sollievo letteralmente all'ottantanovesimo nella gara contro il Legnago ha portato a casa i tre punti grazie ad un rigore ma questa squadra può fare di più. Sentiamo allora le interviste a fine partita. È chiaro che mi aspetto sempre di più sono consapevole che non siamo stati nei 90 più recupero sempre lineari però il calcio è questo, c'è un avversario c'è un aspetto psicologico una partita che veniva da due sconfitte in un certo modo quindi mi aspetto e sono convinto che questa squadra può fare molto di più. Quanto tempo ci vorrà non è semplice dirlo e quindi era fondamentale stasera raccogliere tre punti per farci lavorare su quell'autostima su quella conferma di una motivazione che stasera ho visto per lunghi tratti per dare tempo e modo un po' a tutti di esprimere questo potenziale che secondo me è nelle corde di un organico forte. Un'altra cosa fondamentale che dobbiamo assorbire è che oggi abbiamo un vestito diverso nel momento in cui si va in campo. ieri si parlava appunto di quale poteva essere in qualche modo la difficoltà mentale che ha avuto questa squadra nelle ultime due sconfitte è quella di accettare una pressione diversa perché quest'anno c'è da accettare una pressione diversa e quindi è chiaro che dall'altra parte aspettano l'Arezzo preparano la partita in un modo diverso e quindi anche mentalmente avere questo vestito dove non ci nascondiamo vogliamo fare un campionato importante senza andare nello specifico sento parlare di vincere il campionato secondi, terzi ma comunque vogliamo essere protagonisti e allora anche questa pressione dobbiamo essere in grado di gestirla in un momento dove è fisiologico per crescere come squadra e per il potenziale che ha. Questa squadra può fare molto di più perché ha delle caratteristiche e del potenziale numeri più elevati. Sono felicissimo che innanzitutto sia arrivata la vittoria poi coincide con il mio esordio perché è stato il mio esordio con questa maglia e non potevo desiderare di meglio. Diciamo che siamo noi ragazzi che siamo arrivati l'ultimo giorno di mercato siamo stati presi per questo quindi per aiutare la squadra e per dare qualcosa in più nel momento del bisogno sono felice almeno stasera di aver fatto quello che dovevo. Sappiamo che abbiamo una città che ci guarda e questa cosa è molto fondamentale sapevo di avere tante responsabilità addosso per la gente che c'era allo stadio per chi era e non c'era per chi la guardava da casa per noi perché avevamo bisogno di questi tre punti quindi ho pensato a questo e l'unica risposta era fare gol mi sento io ancora al 100% quindi continuo a lavorare tutta la settimana per comunque trovare questa soluzione. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per la cortese attenzione e arrivederci.